Per me è una provocazione fatta da qualcuno che è su Facebook e che lo fa a posto per vedere i commenti. Non può essere un mitomane che mette un sacchetto in un bosco, uno attaccato, appeso alla chiesa, un altro sotto un sottopassaggio. Per me è uno mitomane che vuole farsi vedere, che vuole essere al centro dell'attenzione. Infatti quando ho letto, oddio, madonna, che cosa sono? Mi sono sembrate come persone, c'è proprio, mi hanno fatto paura, ti dico la verità. Invece mi sono tranquillizzato quando ho detto le spazzature, perché c'è di peggio. Do una cosa fuori... Sono cinque sacchi e sono quindici giorni che sono lì. La mia vicina un po' si è arrabbiata, mi ha detto, ma ascoltate ragazzi, ci sono dei ragazzi giovani, li avete messi fuori voi. Lui gli ha detto, sì, quando li raccogliono, lunedì che li raccoglieranno, o questo è il prossimo. Bella che sta che proprio, ma Dio me lo fa impressione, se c'è qualcuno dentro al sacco. Eh sì.